Il sindaco e presidente della provincia di Ravenna, Michele De Pascale, con il sostegno della Camera di Commercio di Ferrara in Ravenna e delle associazioni economiche e sindacali del territorio, ha promosso la petizione sì all'eolico e al fotovoltaico offshore in Romagna, a supporto della produzione di energia rinnovabile con impianti eolosi e fotovoltaici offshore a largo delle coste nell'Alto Adriatico. È un comitato per il sì, è la volontà di dare una grande spinta popolare, una progettualità, quella del grande parco eolico a largo delle coste Ravennati partendo dal basso appunto, dalle persone, dai cittadini, dai sistemi di impresa, dai sindacati e dalle istituzioni locali. Noi avevamo chiesto per questo parco eolico una procedura agevolata di autorizzazione simile a quella utilizzata per il regassificatore, non è stato possibile, sta seguendo l'iter ordinario e l'iter ordinario è un iter troppo lungo, troppe pastoie burocratiche, troppa lentezza per una scelta strategica che secondo noi ha un grandissimo consenso popolare e che è urgente rispetto al raggiungimento degli obiettivi anche di COP28. Quindi tutti i singoli cittadini potranno sottoscrivere questa petizione che chiede di accelerare l'iter di Agnes, che esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione di impianti offshore per le energie eoliche, anche per il solare galleggiante, anche nel centro nord, dobbiamo usare anche il vento e le possibilità che ci sono nell'alto Adriatico, ovviamente a distanza dalle coste per non avere un impatto paesaggistico sul turismo e con accordi e protocolli con il mondo della pesca perché l'acquacultura e la pesca possano proliferare e crescere grazie a queste infrastrutture, non certo essere danneggiati. Nel frattempo il progetto Agnes procede negli iter autorizzativi. In questo momento Agnes sta affrontando una fase di valutazione di impatto ambientale, siamo nell'ultima fase, cioè sono pervenute le ultime richieste di integrazione, la proponente quindi Agnes sta rispondendo alle ultime contradduzioni, speriamo che questa sia la fase conclusiva e poi il 22 dicembre si attiverà l'ultima fase di schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica del Ministero, del Mase, per poi effettuare l'ultima fase di ulteriori 30 giorni per l'approvazione del provvedimento di via, quindi ci aspettiamo l'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale entro la fine di febbraio. Dopo si attiva l'ultima fase, secondo la 387 del 2003, che è la fase di autorizzazione unica, quindi ci aspettiamo ulteriori mesi per l'approvazione finale del progetto.